Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero siete bene. Voglio incominciare questo video ringraziandovi davvero perché ho visto che siamo aumentati un po'. Apprezzo moltissimo ragazzi, davvero. Vi adoro e spero un giorno di fare un giveaway anch'io perché ci tengo e ve lo meritate. Appena avrò i soldi, spero. Così, se riesco, voglio far vincere più di una persona. Davvero ragazzi, ci tengo. E spero commentiate questo video perché davvero apprezzo moltissimo e mi tirate su di morale. Perché come al solito sto ancora passando un periodo, cioè sto passando un periodo proprio bruttissimo e voi mi tirate su di morale. Come vedete, come sfondo abbiamo questo bel, ci diciamo non proprio bello perché non è un po' comunque, cioè non è il po' comunque che preferisco di più. Però non è, però dai carino. No, questo è Omega la Kazan e come vedete c'è la serie nuova che è uscita, cioè la serie si chiama, scusate, Destini incrociati ed è uscita, credo un po' di... Sì, da me è uscita sette giorni fa, cioè... Non è uscita l'odio. Quindi ragazzi, ho preso una bustina, ce l'ho presa in altre due, provo a fare un video a parte. Nella prima bustina, ho trovato una cosa bellissima, cioè... Purtroppo ragazzi la bustina l'ho già aperta perché ero emozionata. Però vabbè, porto il recap, dai. La bustina, ecco uno, guardate, bellissimo. Lui. Vi faccio dei foglietti prima. Scusate ragazzi, so che magari il capo non è una cosa bellissima, ma piuttosto che niente, dai. Voglio farvi vedere cosa ho trovato. Omega la Kazan. E dentro abbiamo... La Kazan X, che ha trovato mia sorella, ecco. E anche questo. Omega la Kazan. E qua c'è... Oddio, anche se si vede sfocato. Zigarde, ok. Drio, aspetta, lo faccio, ok. Codice, che nuovo. Eccolo qua. Io ho già visto che era forato ragazzi, però dai, ve la faccio vedere anche a voi. Abbiamo... Destinatura Casuale. Elix Fossile di Omanyte. Mmh, sì. Shackle. Non so come si dice, scusate. Snivy. Solosis. Lotita. Però ragazzi vi porto un'altra apertura dove l'apro in diretta. Mincino. È solo una bustina ragazzi. Poi vabbè dai. Wisemore. Vediamo cosa troviamo. Koffing Reverse. E andiamo piano ragazzi, dai. Per fare un po' di... Anche se non è magari una full art bellissima per voi, ma... Vabbè sì, dai. Il bordo è azzurro, quindi... Secondo voi chi è? Oh... Altaria full art. Che preferisco ragazzi. Meglio Altaria full art che una trainer. E Audino, perché ragazzi, Audino è proprio brutto. Non so perché l'abbiamo fatto, beh. Bellissimo ragazzi. Altaria full art. Spero che si veda bene. Quindi ragazzi, ottima apertura. Per una bustina... Cioè, c'erano sei bustine. Ho scelto quella giusta. E anche spesa ragazzi. Quindi si sapeva che c'era qualcosa. Quindi ragazzi, l'apertura finisce qua. Spero l'abbiate apprezzato anche se... Non è l'apertura in diretta. Però è carina. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Dove spacchetterò una bustina chiusa. E speriamo di trovare qualcosa di carino. Pregate per me. Tanto se non trovo nulla ho trovato questa. Però la carta che vorrei tanto è Kindra. Speriamo di trovarla. Quindi ragazzi, il video finisce qua. Ci vediamo alla prossima. Un bacione. Mi raccomando, commentate che apprezzo, eh. Mi raccomando, spero commenti positivi. Perché davvero... Cioè, mi trate su di morale. Ciao a tutti. Un bacione, ciao. Ciao a tutti.